Con la Juve aveva detto che aveva fatto i complimenti alla squadra, non era un passo indietro, con Bologna aveva salvato parte della partita, aveva detto che un tempo comunque le era andato bene, stasera è veramente difficile trovare una spiegazione, una prestazione, cioè è sembrata la Roma quella dell'inizio stagione, non riusciva a fare una palla goal, difficoltà di difesa e come se la spiega? A questo punto è sì un passo indietro. Grazie.